Ma bella a tutti ragazzi! Buon Natale a tutti quanti ragazzuoli! Finalmente è arrivato il giorno di Natale! E come tutti gli anni ragazzi mi sto preparando a farmi una di quelle mangiate che non vedrò mai più nella vita! E stranamente raga, come avevo promesso ecco a voi il vlog del mio Natale, in cui essenzialmente i temi ragazzi saranno più o meno tre! Perché? Quello che si mangia a Natale, quello che si fa a Natale e quello che si mangia a Natale! Comunque ragazzi il mio Natale inizia il 24 a sera, o meglio mi correggo il 24 pomeriggio, quando da 5 km in linea d'aria da casa mia si percepisce una nuvola di fritto che te fa ingrassare 20 kg solamente a sentirne l'odore! Quindi mi madre e mi nonna iniziano il 24 pomeriggio a frigge pure Gesù Cristo! E quando vi dico raga che friggono di tutto non sto a scherzare, friggono pure l'arbero, il presepi, i regali, tanto si mangia tutto raga basta che è fritto! Poi visto che è la vigilia, oltre alla puzza di fritto, esce da casa mia una puzza di pesce raga che manco davvero dentro l'armare la sentite? Poi raga al pesce e fritto aggiungeteci in una ciotola di 6 dimensioni dell'insalata! Però visto che col fritto e col pesce non si mangia abbastanza, l'insalata a destra portata non è che è l'insalata semplice con sale, olio e aceto! Ma no raga perché sarebbe troppo semplice maniassi l'insalata così! Quindi mi nonna dentro all'insalata, come se non avessimo già mangiato abbastanza, ci buttate tutto! Noce, arance, miele, finocchi, carote, di tutto e di più regà ve lo giuro è un'insalatona di Cristo! Buona in culo ma essenzialmente dopo essersi mangiati l'ira di Dio prima, quando arrivi all'insalata che... Devo dire che è troppo buona regà, tu stai tipo... Oh basta, non gliela mangio più! E mi nonna... Ma lei, magna, non ha mangiato un cazzo, sei troppo magro! E mi nonno... Anna Marie, basta con st'insalata, basta! E mi padre... Dai magna, che tanto vuoi rimanmi domani! Comunque regà, la parte più bella della vigilia di Natale è dopo aver mangiato che finalmente si scartano i regali! E non so regà se vedete la base del ladro di Natale ma si sta muovendo la GoPro! Regà questi sono i fantasmi dei Natali che sono passati! Ciao Mary! Vieni qui! Vieni Mary! Ciao Mary, saluto al popolo di Youtube! Ciao Mary! Oh babbo Mary! Vai Mary, vai con Dio! Vabbè comunque, la parte più bella... Mary però ti devi sta ferma! La parte più bella della vigilia di Natale è dopo aver mangiato spacchettare i regali! E dopo esserse fatti una magnata di quelle epiche e aver spacchettato i regali... Tocca andare a messa! Quindi dopo aver mangiato e averci una panza davvero tipo quella del babbo Natale... Tocca sta ammassati, accarcati dentro la chiesa... Con caldo che si muore... Fuori fanno meno 50 gradi... Quindi sta dentro la chiesa, esci fuori e te piana sincope... Comunque raga, arriviamo direttamente al giorno di Natale senza spiegarvi quello che poi succede la notte e la mattina di Natale... Che tu te svegli non sapendo dove stai, non sapendo chi sei perché hai passato una notte insonne... Abbracciato alla tazza del cesso... La cosa brutta del giorno di Natale è che non è come la vigilia che mangi solo a cena... E no, sarebbe troppo facile perché mangi pure a pranzo... Quindi te svegli, fai colazione anche se sai che quella colazione te si ritorcerà contro... Perché poi te svegli tipo alle 11, fai colazione e a mezzogiorno e mezza ristai a tavola... E io raga ve lo giuro, cerco di ten me leggero per la sera... Ma no, questo non succede perché c'è sempre mia nonna che dice magna perché sei troppo secco... Pagli, chili e chili di pasta, chili e chili di carne, chili e chili di fritto... Finito il pranzo, raga ovviamente lo concludi in bellezza col torroni, pandoro e panettoni... E una volta finito il pranzo, raga scatta la parte più bella del Natale... Ovvero riunirsi con gli amici in cerca e a caccia soprattutto dell'unico bar aperto per prendersi un caffè... Quindi con le strade completamente vuote perché noi siamo l'unica macchina che va in giro il pomeriggio del giorno di Natale... Alla ricerca disperata di un posto dove prenderci un fottusissimo caffè e digerire tutto quello che ci siamo mangiati... E ritornate a casa ragazzi, diciamo il nostro stomaco non è ancora preparato psicologicamente a quella che sarà il cenone di Natale... Ma purtroppo ci dobbiamo costringere a mangiare... Passato anche il giorno di Natale ragazzi inizio a preparare la mia mente, il mio corpo, la mia anima... Tutto quanto me stesso a quello che poi sarà a capodanno... Questo ragazzi in breve era il mio Natale, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento... Ci vediamo alla prossima... Buon Natale a tutti!